bentornati su my football jersey continuiamo con le anticipazioni per il prossimo campionato questa è la seconda maglia dell'ajax in versione player per la stagione che deve ancora ricominciare per la stagione che deve ancora ricominciare la stagione che deve ancora ricominciare la stagione la maglia è molto bella nella mia classifica prende 5 stelle devo dire la verità dal vivo molto più bella che non in foto il costo lo vedete qui sopra l'avete visto bassissimo per una maglia fatta così bene che arriva anche molto velocemente in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia è un nuovo sito che non conoscevo e ho trovato fantastiche sorprese ora prima di lasciarvi la parte finale vi chiedo di lasciarci un grande like ma soprattutto di iscrivervi al canale a voi non costa niente ma a noi fa tutta la differenza del mondo ciao alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media che vedete è un po' di iscriviti al canale a voi non costa niente ma a noi 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 Grazie a tutti.